Pronti? Azione! Ciao, mi chiamo Silvano Mi chiamo Federico Mi chiamo Alessio Nel film faccio una parte molto bellissima, l'operaio E il film lo dedico alla mia famiglia Massimo Bertimuller Il babbo Lina Bertimuller La mamma Patrimare a tutti gli amici del bar Si chiama Pino, Giuseppe, Giacomo La nonna, la zia Ammazio Onorato Cavannelli A Umberto Eco A Maria De Filippi Margherita Hac Bombolo Pippo Baudo E Einstein Ciao, ciao Trocchi dei besi Trocchi di folla Grazie a tutti 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 Grazie a tutti